Domenica 24 marzo 2019 Venezuela, le conversazioni della cellula terroristica di Guaidò. Il ministro delle comunicazioni, Giorgio Rodriguez, ha rivelato alcuni dei colloqui tra l'autoproclamato Juan Guaidò e il suo braccio destro Roberto Marero, in cui progettavano azioni terroristiche contro il paese con l'incursione di gruppi paramilitari, sabotaggi e falsi positivi. In una conferenza stampa, trasmessa in diretta anche sulla televisione nazionale, il link al video in lingua originale è disponibile anche nel commento tenutasi a Palazzo Miraflores, ha mostrato alcune delle conversazioni estrapolate dal cellulare di Marero. Rodriguez ha riferito che sono state preparate dieci squadre composte da otto assassini paramilitari. In un'altra conversazione tra Roberto Marero e Rosana De Cucuta si fa riferimento al fatto che i soldi per l'assunzione di sicari non siano sufficienti e alla fine Marero accetta di pagare tra i 500 e i 700 mila dollari al giorno affinché potessero essere trasferiti in Colombia e ricevere la formazione adeguata. Tra questi, membri delle bande centroamericane come l'OSMARA, almeno la metà di questi paramilitari sono salvadoregni, guatemaltechi e honduregni e sono stati in grado di entrare in Venezuela. Il governo è sulle loro tracce e saranno arrestati ovunque si trovino. Inoltre dalle conversazioni si evince che il danaro era il ricavato di rapine da asset venezuelani, Citgo, filiale della PDVSA, all'estero a seguito delle sanzioni USA che hanno anche bloccato i conti bancari del paese e creato un danno al paese per un importo totale stimato di 30 milioni di dollari. Queste risorse finanziarie sono state depositate in conti bancari a Panama. Confermate dunque le accuse di Assassinio selettivo di leader sociali e politici, attraverso liste di nomi. Nuovo sabotaggio contro la metropolitana e la funivia di Caracas. Falsi positivi, notizie false, attraverso i media e i social network. Cospirazione di scioperi generali nel settore del lavoro. Assalto al palazzo di Miraflores, sede del governo. Azioni terroristiche di false flag. Le conversazioni telefoniche mostrate riguardano anche Leopoldo Lopez e Freddy Guevara, tra gli altri in cui si fa riferimento alle operazioni terroristiche per tentare di contrastare la sovranità del Venezuela, dalle azioni armate alla diversione dei fondi statali. La destra locale e internazionale dunque passa da una strategia di assedio attraverso la sfissia finanziaria a una strategia di assalto con l'obiettivo di prendere il potere. Il gruppo terroristico che si fa chiamare, Estad Mayor, secondo quanto riferisce il ministro è guidato da Leopoldo Lopez agli arresti, e il vice Juan Guaidó, insieme ad altri membri dell'Organizzazione Politica Volontà Popolare. Gavilan, Leopoldo Lopez, Carlos Vecchio, politico dell'opposizione, Fernando Martínez, consigliere, Freddy Guevara, vice, Juan Andrés Meijas, MP, Juan Guaidó e Sergio Vergara, MP. Tutti appartenenti al partito di Guaidó.